Il vincitore di Amici 2017 è stato il ballerino Andrea Smoller, della squadra dei Blu, ma il vincitore morale della sedicesima edizione del talent di Maria De Filippi è stato di sicuro un altro ballerino Sebastian Melotavera, della squadra bianca Il vincitore di Amici 2017 è stato il ballerino Andrea Smoller, della squadra dei Blu, ma il vincitore morale della sedicesima edizione del talent di Maria De Filippi è stato di sicuro un altro ballerino, Sebastian Melotavera, della squadra bianca In tutto ciò, Sebastian non vede suo fratello da 16 anni, perché è rimasto in Sud America Le difficoltà della sua vita, unite al suo spirito guerriero e alla sua gentilezza, hanno conquistato tutti Con 24 lo ha intervistato, e lui ha affermato di aver dedicato il suo successo ad Amici a suo papà che non c'è più Inoltre sta analizzando delle proposte lavorative per il futuro, sto vagliando delle proposte, questa estate farò qualche staging E sto pensando molto alla proposta di Maria De Filippi di entrare a far parte del cast dei professionisti anche a quella di Eleonora Abbagnato di andare in tour in Francia e in Italia Un amore in nome dell'amore per la danza